Oggi vi porto a Montisola, in uno dei borghi più belli d'Italia, a fare una passeggiata super panoramica per raggiungere il santuario della Ceriola. Ci siamo imbarcati a Sulzano per raggiungere Peschiera Maraglio, da dove partirà la nostra giornata. Ciao a tutti, oggi siamo a Montisola in provincia di Brescia, vi voglio portare nella passeggiata che porta da Peschiera Maraglio, dove si arriva con il traghetto sull'isola, fino alla cima al santuario. Io sono Nicola Bonetti, organizzo viaggi di gruppo ed esperienze sportive e denogastronomiche. Ho scelto il percorso numero uno, che parte dall'info point di Peschiera Maraglio, attraversa il paesino e poi, come si dice da queste parti, rampega, quindi inizio un pochino a salire, però ci sono di quei panorami che sono mozzafiato, poi c'è stata una parte tutta quanta piana, fino a un secondo paesino, e adesso aspetto un'ultima parte, quindi vi aggiorno presto. È classificato come E, quindi escursionismo, non ha particolari difficoltà, è su un 450 metri di dislivello per circa 4 chilometri. Mamma mia, la freschezza nel boschetto, che spettacolo! Questa è la prima di una serie di puntate sulle camminate e le attività che potete fare a Brescia e provincia e dove potrete divertirvi e godervi di panorami pazzeschi. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale che poi arriveranno tutti i nuovi video. A prestissimo!